E' stato un momento in cui la comunità nazionale si è ritrovata dopo anni drammatici per pensare al proprio futuro. Allora senza parallelismi forzati, come giustamente ha detto prima il Presidente della Regione, ecco io mi auguro che questo viaggio, il viaggio del Militegnoto in un contesto diverso, senza retorica, con grande cura, lo dicevo anche l'altra sera al concerto che abbiamo realizzato per queste celebrazioni a Roma. Alla fine ciò che innanzitutto ha suscitato a me di partecipare a questa esperienza è stato un invito al silenzio. Con la scelta che venne fatta di individuare una madre che aveva perso un figlio, Maria Bergamas, per scegliere la vara del Militegnoto. Una donna straordinaria, io ho avuto modo poi di conoscere una sua discendente. Grazie. Grazie.